Uno degli aspetti più tenebrosi, e forse più sconosciuti all'estero, è l'apparentemente incomprensibile atteggiamento dei poteri pubblici spagnoli nei giorni successivi alla tragedia di Valencia. Le autorità non solo non avevano previsto il disastro e allertato la popolazione ma, anzi, hanno letteralmente ostacolato durante ben quattro giorni l'arrivo di aiuto materiale e umano alla zona colpita. Le migliaia di volontari che si dirigevano ai luoghi del disastro hanno trovato ogni tipo di difficoltà da parte della polizia, e militari, forze dell'ordine, protezione civile e pompieri sono stati trattenuti in caserma. E questo, malgrado numerosi servitori pubblici manifestassero la loro volontà di mettersi a disposizione in una situazione di estrema necessità. Anche tanti comuni hanno cercato di bloccare le iniziative spontanee dei cittadini, e la maggioranza della classe politica e mediatica del paese ha immediatamente segnalato il cambiamento climatico come la causa della catastrofe, e i cosiddetti negazionisti come i responsabili ultimi delle perdite umane. Insomma, troppe similitudini con quanto accaduto quasi cinque anni fa, e una reazione del governo spagnolo che qualcuno ha già battezzato come la tachipirina e vigile attesa in versione climatica. Per quelli che amano dare del complottista agli altri, conviene ricordare che lo scorso 31 maggio il re Felipe VI di Spagna fu sorpreso quando si recava in segreto alla riunione del gruppo Bilderberg. Siccome uno dei punti all'ordine del giorno della riunione era il clima, bisognerebbe chiedere a sua maestà se i suoi padroni del Bilderberg abbiano qualcosa da vedere con quanto accaduto a Valencia questa settimana. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è un vero delinquente e anche una sorta di servo euroatlantista, ma il garante nazionale della tachipirina e vigile attesa. Sia in salsa pandemica che in quella climatica, non è lui ma il capo dello Stato, Felipe VI, esattamente come Mattarella in Italia. A proposito, questi due personaggi si incontrarono nelle Canarie poche settimane fa. Parlarono anche delle linee guida su che cosa devono fare e che cosa devono non fare, in caso di emergenza climatica.